Cercare di dare delle proposte, lavorare su delle norme che possano andare verso un approccio diverso, quella dell'accoglienza, quella di una politica che possa cominciare a valorizzare le buone pratiche sul territorio e diffonderle per cominciare verso l'integrazione delle persone. E bisogna anche dire che questa integrazione non riguardano soltanto i migranti. I migranti italiani insieme per rafforzare una cittadinanza, quindi una nuova cittadinanza.